Che mestiere fa questo signore secondo te? Fa la coda per gli altri. Si mette in fila, sta lì, un'ora, due ore, minimo due ore, 25 dollari alla sua tariffa iniziale e ti fa la fila. Quando sta per arrivare proprio lì in prossimità dell'obiettivo, chiama, tu arrivi, principesco, salti tutta la fila e ti compri la roba che ti devi comprare. E poi astutamente con ingegno il nostro amico Robert si è promosso in modo alternativo quando c'era una coda con questi annunci scritti col gesso sui pavimenti dicendo oh vuoi che qualcuno faccia la cosa per te? Chiamaci. E oggi ha a New York una delle principali agenzie di line sitting. Pazzo furioso vero. Quali altri pazzi furiosi che fanno mestieri alternativi conosci?